ESCLOSIVO E FURIOSO Dico... BOOM! Se impediamo che Chaos malvagizzi l'antico Spirito Arboreo, l'avremo fermato una volta per tutte. Siamo pronti a partire quando vuoi. D'accordo, torna quando sarai pronto. Sei pronto a salvare lo Spirito Arboreo e a sconfiggere Chaos, Skylander? Attenzione, Troll del Fuoco! Io, Chaos, per troppo tempo ho tollerato l'incompetenza dei miei servi, ma da oggi si cambia! Vi do la possibilità di dimostrare a me, il vostro glorioso leader, che non siete il completo e totale assortimento di falliti che penso che in realtà siate. Seguitemi con attenzione! Questo è il vostro bersaglio, l'antico Spirito Arboreo. Deve essere catturata a qualunque costo. Sono stato chiaro? Ora, quei miserabili Skylander cercheranno di fermarvi. Oh sì! Ma, grazie al mio incomprensibile genio, siete stati tutti equipaggiati con questo... Fuoco malvagizzato! Lo userete per attirare lo Spirito Arboreo nella mia trappola e assicurare la mia suprema vittoria! O non vi sturbatevi a tornare indietro? Chiaro? Sì, vittoria per me! Aprite il portello! Nerf! Eh, signore, è sicuro che il suo piano funzionerà? Ma certo che funzionerà, sciocco! Tu pensa solo a fare la tua parte, eh? Nel frattempo, io supervisionerò personalmente tutta quest'operazione! Aspetti, cosa? Ma potrebbe essere pericoloso! Lo Spirito Arboreo è nei guai, Flynn! Chaos vuole ridurre in cenere tutta la foresta! Eh, gli Skylander non permetteranno mai che capiti qualcosa di brutto a quella simpatica signora albero! Puoi scommetterci! Giusto! Diamoci una mossa e andiamo a dargli una mano! Cosa sto dicendo? Gli Skylander dell'elemento magia! Oh, che meraviglia! Sono arrivati gli Skylander! Questi malefici troll sono dappertutto! Fate attenzione! Dobbiamo spegnere l'incendio alla porta prima che si propaghi! Segui il tubo fino alla pompa e io lo collegherò! Fa presto, Skylander! Non c'è un istante da perdere! Che! Chave un po' di Poklo! BOOM! Non preoccuparti per me. Succede di continuo. Riempi d'acqua i palloncini con la pompa e spegni quelle spregevoli fiamme. Vado al massimo. Un posto giusto per me. Un posto. Eccomi! Vado al massimo! Vado al massimo! Cenere alla cenere! Vado al massimo! Quel diabolico caos ha circondato l'antico spirito arboreo con un anello di fiamme corrotte. La poverina è completamente intrappolata. Il fuoco malvagizzato deve essere spento prima che possa diffondersi. Non so cosa accadrà se quelle fiamme arrivano a lambirla, ma sono sicuro che non sarà niente di buono. Devi fare in modo di spegnere quelle fiamme, Skylander. Se lo spirito arboreo viene catturato, per noi sarà la fine. La fiamma non si doma! Gli Skylander dell'elemento Vita sono più forti in questa zona. Gli Skylander dell'elemento Vita sono più forti in questa zona. Gli Skylander dell'elemento Vita sono più forti in questa zona. Sprodotto del non-norte! No! Sì! Sì! Oh golfando una grande spectacular una coperta! Mi ha servitato, carta! Bellone! Perfetto! Una vittoria bruciante. Ora basta, perdici. Lasciatemi stare. Andate via. Iluminò il cammino. Maciullatore con missili. Brucia e impara! Non ti eh. E' un bel peido. Unc Knock. Uncanncer. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non puoi trattenermi!